Buon pomeriggio da Economia24, la puntata di oggi interamente dedicata alla giornata mondiale per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro. Purtroppo continua la strage infinita di morti bianche, oggi a Roma è morto e è deceduto un operaio di 39 anni dopo essere caduto nel vano di un ascensore. Nel primo trimestre, questi sono dati dell'Inel, c'è stato un incremento di denunce e infortuni mortali rispetto allo stesso periodo del 2021. Ne parliamo oggi con i nostri ospiti che sono Sandro Giovannelli, direttore generale dell'ANMI, ossia l'Associazione Nazionale Fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, e Giuseppe Fasano, giornalista inviata del Corriere della Sera, esperta che da anni si occupa di questi temi. Benvenuti entrambi. Buongiorno, grazie. Ma prima facciamo il punto in questa scheda di Alessandro Fresilli, poi ne parliamo insieme. È una tragedia che di giorno in giorno acquista sempre più forza a quello che emerge dall'analisi dei dati riguardanti gli infortuni sul lavoro nel nostro paese. Uno stilicidio che, letto nella sua interezza, fotografano realtà notevole affanno per tutto ciò che riguarda le tutelle in ambito lavorativo. L'allarme lo lancia l'INAIL, l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori, nella giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro. Nel primo trimestre del 2022 si registra un sensibile incremento di incidenti mortali e malattie professionali rispetto all'analogo periodo del 2021. Sono infatti circa 194.000 le denunce presentate al 31 marzo di quest'anno, il 50,9% in più rispetto alle oltre 128.000 dello stesso periodo dello scorso anno, e del 48,3% in più riguarda le quasi 131.000 di gennaio-marzo 2020. Incrementi che si osservano in tutti i settori produttivi, dall'industria, servizio all'agricoltura e trasporti, dalla sanità fino all'amministrazione pubblica e che coinvolgono le donne più degli uomini. Degli incidenti denunciati, 189 hanno causato vittime, 4 in più rispetto alle 185 del 2021 e 23 in più rispetto alle 166 del 2020. Nel conteggio un grande peso lo hanno sicuramente avuto i sinistri in tinere, cioè recandosi o tornando dal posto di lavoro, passati in 12 mesi da più di 13.000 a oltre 17.000, un incremento del 31,2% che ha prodotto 20 incidenti mortali in più. Si tratta ovviamente di dati in continua evoluzione, suscettibili di eventuali ritardi nelle denunce di infortunio, in particolare di quelle con esito mortale e da contagio Covid-19, che è inciso per un quarto nel 2022 contro un sesto del 2021, ma che delineano una tendenza in crescita in tutte le aree del paese. L'emergenza sicurezza sui luoghi di lavoro è un tema che riguarda infatti il sud come il nord-ovest, le isole, il centro e meno il nord-est, un fenomeno che richiede sicuramente più controlli, ma anche un deciso scatto in avanti per quanto riguarda la cultura della sicurezza in Italia.